I giocattoli rievocano inevitabilmente in noi una miriade di ricordi. Nostalgia, allegria, felicità di quei cari vecchi tempi in cui eri spensierato e non dovevi pensare a cose tipo fare il 730, sopravvivere economicamente fino a fine mese o sopportare i clienti al lavoro. E sì, anche i giocattoli tarocchi sanno triggerare certi ricordi. E noi siamo pronti ad affrontarli tutti, nella nostra effervescente rubrica dei... I freebooter giocattoli! I freppucattoli! Una cosa con la quale credo tutti abbiamo giocato almeno una volta durante la nostra infanzia sono le bolle di sapone. Quelle boccette che soprattutto d'estate trovavi pressoché ovunque, dall'edicola ai supermercati fino ai negozi di scarpe. Credo le abbiano prodotte a tema di praticamente qualunque cosa e ci sono anche degli upgrade dove la boccetta semplice diventa una sorta di pistola sparabolle per rendere un momento bucolico, un po' più guerrigliero diciamo. Non sorprendiamoci quindi nel vedere una pistola sparabolle a tema Spider-Man che sta a pecora sulla suddetta pistola. Senti, io capisco tutto, ma trovagli in altra posa sto povero Peter Parker? Cioè, già è il più poraccio di tutti i supereroi che oltre a salvare New York deve fare 8600 lavori per riuscire ad arrivare a fine mese. Cerchiamo di salvaguardargli almeno un minimo di dignità, visto che già gli è stata portata via un cotale dignità in passato. Ve l'avevo già accennato, ma credo valga la pena ribadirlo. Le bambole, soprattutto quelle antiche di porcellana, a me incutono un sacco di timore. Sarà perché penso automaticamente ai film horror. E credo che certi produttori di giocattoli lo facciano apposta a creare determinate bambole in un certo modo, altrimenti non mi spiego come una roba del genere possa essere considerata normale. Allora, io capisco che siccome è una bambola a tema natalizio, l'idea era quella di fare una sorta di cherubino che canta, però se lo vedo con questa espressione, io penso a qualcosa, a una via di mezzo tra l'urlo di Munch e un demone che sta evocando una maledizione, nemmeno troppo velatamente, su di noi mentre dormiamo. E non voglio pensare a robe maliziose perché è una bambola, su dai. Quella di E.T. è una storia che ha commosso milioni di spettatori, col piccolo alieno che cerca disperatamente di tornare a casa. Chiaro quindi che produrre peluche ispirati a questo film e soprattutto a questo personaggio non può che essere una buona idea. Quale bambino non vorrebbe un tenero E.T. da abbracciare? Niente, niente, come non detto. Cos'è sta chimera metà tra E.T. e una giraffa disarticolata? A parte che l'espressione pare essere quella di uno che si è fumato tutta la via Lattea e oltre. Ma perché fargli questo corpo bislungo quando quello originale è così? Ma che problemi avevano? Poi perché disegnare il ditino rosso? Vabbè, forse quello per ricreare l'iconica scena del film. Ma il cuoriglino sul petto? No, sai che c'è? Devo smetterla di pormi tutte queste domande. Lara Croft è stata una vera e propria icona nel mondo dei videogiochi e ne altre si è rivoluzionato la storia. Quindi è assolutamente normale. Vengano prodotti gadget a lei ispirati. Ciò che non comprendo però è perché realizzarli così. Fun fact, questo non è un frebucattolo, ma un prodotto originale, solo che è fatto talmente male che a mio avviso merita un posto nella nostra rubrica. In primis, l'espressione di Lara. Perché sembra abbia visto la Madonna e tutti i santi in colonna? Cioè, la faccia del pugnale dell'Oxiane, eh? In secondo luogo, che è successo alle sue spalle? Capisco che debba arrampicarsi su antichi templi, sterminare dinosauri e spingere massi pesanti il triplo di lei. Ma sti due cosi pomi messi a caso mi disturbano. Come sto pipistrello viola. Ma che c'ha zecca? Poi quando mai in uno dei giochi Lara ha decimato pipistrelli di sto colore? Che capitolo era? Mi sa che me lo sono persa. Nessuno è immune a certi momenti di sconforto, soprattutto quando ti suona la sveglia e sai che è lunedì mattina e devi ricominciare da capo la settimana lavorativa. E quando dico nessuno, intendo proprio nessuno, nessuno. Come questo Woody, che rappresenta alla perfezione il nostro mood interiore in certi giorni. L'intenzione originale esattamente qual era? Mostrare l'esatto momento in cui Woody capisce che Buzz è il nuovo giocattolo preferito di Andy? Non lo so, però il risultato è sicuramente ilare. Cioè, immaginati il bambino o bambina che riceve in dono questo oggetto. Mamma, mamma, che Woody è questo? Woody passione quanto manca la pensione, tesoro. Capirai quando sarai grande. E chiudiamo come al solito con un sailor frebucattolo, a questo giro col fantastico trio delle Moonbeam. Che tutto sommato vi dirò, sono anche caruccio e mi piacciono, solo che evidentemente la palette di colori che avevano messo a disposizione era composta da blu, verde e viola e dovevano essere rigorosamente scambiati tra abiti e capelli. Ma almeno le bambole ci tengono a salutarci dalla loro scatola per mostrarci le loro immense abilità snodate. Ed è tutto per questa nuova frizzantella puntata dei giocattoli freebooter. Come al solito, se vi va, fatemi sapere qual è stato l'oggetto più arg a questo giro e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Nel prossimo round vediamo Sailor Neptune che sembra tarocca in realtà originale ma è talmente inquietante da sembrare tarocca versus Indy. Vediamo come se la cava Indy all'assalto dei frebucattoli. Più o meno. No. Combatti. Sì, ma che combattimento è? Se usmi e basta. Ma guarda che qua gli spettatori vogliono l'azione, eh. Se usmi. Ecco, questo è il massimo del combattimento. Mamma mia, quanto sei pigro. Pigrissimo. Come fare il 7.30? Se pravivere... La quale credo tutti abbiamo giocato almeno una volta è Credo le abbiano prodotte sbrandizzate a perché ci ho messo una S all'inizio. Un momento bucolico, un po'. Quelli gli... Ne l'avevo già accennato Ma credo vaga la pena di dimenticarsi una L per strada. Lo facciano decisamente apposta a cleare. Cleare. Ma natalizio credo che l'idea forse quella... No. 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 Una maledizione nemmeno troppo discretamente mentre tepe 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 tepe. Caro quindi che produrti articoli a te. Ma perché rifirargli? Rifirargli? Rifirargli. Ciò che non comprendo è perché realizzarsi così. Da soli. Eh. Che è successo dalle sue spalle? Tutto parte dalle sue spalle. Che con questa vaccia credo rappresenti alla perfezione chi sbaglia. V di è questo? V di pensione qua... No. Passione. Pensione. Vabbè. Palette di colori era blu verde blu. Ripetuto due volte. Pensione. 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 Grazie a tutti